Intanto bisogna dire che ieri si sono scontrate due versioni differenti, due facce della stessa medaglia di errori, perché ci sono gli errori della Commissione Europea che secondo me dove essere più attenta al cambio di governo in Italia, essere un pochino più strategica prima di bocciare una manovra finanziaria e poi gli errori di questo governo che non è in grado di scrivere una manovra finanziaria in cui le misure che vuole adottare siano veramente finanziate, non soltanto da deficit. Credo che la Commissione abbia sbagliato perché non aspettava altro il governo italiano di poter avere una scusa per fare la guerra all'Europa. Tutto tatticismo, non c'è nessuna strategia. Posso non esprimermi una pagina di vergogna per lui.